Le compagnie di gas e luce recapitano bollette folli per le famiglie di Cerignola e in maggiore difficoltà interviene il comune con il rimborso delle spese delle utenze domestiche corrente acqua e gas sostenute dal 1 gennaio 2022 fino al 30 novembre 2022. Ad averne diritto coloro che risiedono a Cerignola anche se in affitto o stranieri con valido permesso di soggiorno e danno un'isee inferiore a 15.000 euro. Termine ultimo per presentare domanda il 21 gennaio 2023. A disposizione 100.000 euro da dividere tra i richiedenti classificati in base all'isee per una somma non superiore a 100 euro per ogni familiare avente diritto aumentando di 50 euro per ogni ulteriore membro sino ad un massimo di 300 euro se vi sono 5 o più persone in famiglia. La richiesta può essere inoltrata solo online sul sito del comune a disposizione dei cittadini lo sportello del welfare al piano terra di Palazzo di Città.